Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Natasio sulla A1 in direzione Bologna per lavori 3 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud e 2 km di coda in direzione Roma tra Aglio e Calenzano sulla A11 in direzione Firenze Code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 sulla Fipilì in direzione Mare Code in entrata a Ponte d'Era Ovest Ponsacco e rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est e la diramazione Pisa Livorno Sul raccordo Siena Firenze per lavori e rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Greve e Inchianti e l'allacciamento A1 di Firenze Impruneta La viabilità cittadina a Firenze in viale della Toscana restringimenti di carreggiata per lavori Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio Buon viaggio